Ok, buonasera. Allora, io ho il piacere di raccontarvi oggi un paio di esperimenti che stiamo conducendo qui alla Sissa con il gruppo di Foodcast, in particolare l'unità di ricerca che si occupa delle neuroscienze del cibo di cui io faccio parte. Poi vi dirò un po' gli altri, vi racconterò un po' degli altri membri, ma prima di iniziare vorrei che uscissimo un attimo dal microscopio e pensaste adesso a guardare il cibo in un negozio. Quello di cui ci occupiamo noi in questo gruppo di ricerca è come percepiamo, come il nostro cervello percepisce il cibo, quali sono i fattori che influenzano la nostra percezione e anche quali sono i fattori che influenzano le nostre scelte sul cibo. Fatemi fare una premessa. È chiaro un po' a tutti che quando parliamo di cibo ci sono tanti sensi coinvolti. Possiamo immaginare il gusto, l'olfatto, la vista, il tatto, però se ci pensiamo bene in realtà quando scegliamo un cibo spesso e volentieri utilizziamo solo lo sguardo, le informazioni visive o la memoria. Pensate al supermercato quando compriamo della frutta e della verdura o a comprare la carne o anche nei pacchetti la pasta e il riso. In realtà non abbiamo accesso a tutte quelle informazioni. Ecco perché nelle neuroscienze lo studio del cibo e di come il nostro cervello elabora le informazioni sul cibo ha incominciato e si è focalizzato molto sull'aspetto visivo e è la stessa strategia che avevamo seguito noi. Per cui in questi due esperimenti in realtà noi parliamo di come il cervello elabora le informazioni sul cibo dal punto di vista delle informazioni visive, quello che vediamo da un'immagine o come potete vedere lì da un pezzo di carne al supermercato o un piatto al ristorante. Si sanno già abbastanza cose su come il cervello elabora dal punto di vista visivo il cibo. In realtà però tutte le informazioni che sappiamo trattano il cibo in maniera abbastanza unica e non fanno delle differenze fondamentali. Per esempio questi ricercatori americani ci mostrano quali sono le varie parti, del cervello che sono coinvolte nell'elaborazione delle informazioni visive quando veniamo presentati con un'immagine per esempio di un hamburger, un'immagine di una pasta o un frutto. Ci sono diverse strutture del nostro cervello che sono coinvolte però trattano il cibo tutto allo stesso modo. In realtà noi pensiamo che il cibo si differenzi per molti aspetti non solo appartiene a diverse categorie come la frutta, la verdura, la carne, ma il cibo è un cibo naturale come lo troviamo in natura, pensate alla frutta e alla verdura, ma anche un cibo che noi incontriamo al supermercato trasformato e pronto per l'essere utilizzato. Questa distinzione per noi è molto importante e in realtà l'abbiamo cercata di studiare cercando di capire come il nostro cervello processa e elabora le informazioni dei cibi naturali e dei cibi trasformati. Per trasformati intendiamo una classe di cibi molto vasta, va dalla preparazione, immaginate per esempio se dovete preparare una zuppa, potete andare al supermercato dal fruttivendolo e comprate le diverse verdure e avete a che fare, fate delle scelte su un frutto naturale, su una verdura naturale, lì pronta c'è l'aspetto visivo, la vedete, il colore, l'odore e via dicendo. Però potreste anche comprare al supermercato una zuppa precotta e prefatta, in realtà state facendo una scelta completamente diversa, scegliamo, l'obiettivo è sempre mangiare una zuppa alla sera, però stiamo scegliendo da un contenitore in cui magari l'immagine è l'unica e alcuni cenni della memoria sono le uniche informazioni a cui abbiamo accesso. Per cui pensiamo che questa distinzione tra cibi naturali trasformati sia molto importante. Immaginate che ci sono degli antropologi che suggeriscono che nel momento in cui noi abbiamo smesso di semplicemente raccogliere i frutti della terra e di mangiarli e abbiamo cominciato a trasformarli, preparandoli, combinandoli, in realtà è iniziato il momento in cui noi uomini ci siamo distaccati nell'evoluzione dagli altri primati. Quindi questo atto di trasformare i cibi praticamente ci ha permesso l'evoluzione che conosciamo tutti, che ci ha distinto dagli altri primati. Allora, il primo esperimento di cui vi voglio raccontare è un esperimento che utilizza una tecnica che misura l'attività elettrica del cervello in superficie. Questa è una tecnica abbastanza conosciuta nelle neuroscienze, molto conosciuta dovrei dire, in cui i partecipanti fanno una serie di compiti, per esempio esprimono dei giudizi o fanno delle scelte e via dicendo, mentre l'attività elettrica del loro cervello è misurata con un sacco di elettrodi attaccati ad una cucchia. I compiti possono essere molto semplici. Immaginate, vi do una frase, vi dico è dolce e poi vi presento un cibo e dovete solo semplicemente dire se è vero o no. Oppure potrei dirvi si mangia un matrimonio, oppure si può mangiare come un piatto principale e vi presento un altro cibo. In questi compiti qui si presentano un sacco di cibi diversi e si presentano un sacco anche di situazioni diverse. Qui per esempio si parla del gusto che questo cibo ha, qui invece si parla della funzione o dello scopo dell'utilizzo. Per cui presentando un sacco di esempi diversi e misurando l'attività del cervello mentre facciamo questi compiti, prendiamo queste semplici decisioni, possiamo capire se il cervello considera questo cibo, che è un cibo naturale, allo stesso modo che questo cibo, che è un cibo trasformato. Allora, questa tecnica parte a un sacco di informazioni che vengono trasformate. Quello di cui noi ci occupiamo è guardare come il nostro cervello risponde a questi stimoli e poi guarderemo degli indicatori, dei marker, per vedere se il cervello fa la differenza tra cibi naturali e cibi trasformati. Il marker di cui ci occupiamo in questo esperimento in particolare è l'N400. Non entro nei dettagli, però è un marker abbastanza conosciuto. Quello che è importante sapere è che quando guardiamo questo marker, se è molto sviluppato, se è molto grande, la reazione elettrica è molto grande in questo marker, vuol dire che il nostro cervello sta usando quelle informazioni in maniera molto automatica, in maniera preferenziale. Per cui, proviamo a guardare. Questa è la risposta del nostro cervello ai cibi naturali e, in particolare, qui vediamo che le informazioni sensoriali sono predominanti nell'analisi dei cibi naturali. Per cui, quando veniamo presentati con della frutta, della verdura, il nostro cervello pensa principalmente alle caratteristiche sensoriali di questo cibo, o utilizza principalmente le caratteristiche sensoriali di questo cibo, rispetto a quelle funzionali. Vedete, in questa fascia temporale ci differenzia molto chiaramente la risposta del cervello. Guardiamo invece i cibi trasformati. Come potete notare, le due curve sono invertite. Il nostro cervello utilizza e fa riferimento in maniera molto più preponderante alla funzione dei cibi quando guardiamo i cibi trasformati. Questa è un'evidenza abbastanza netta del fatto che non consideriamo tutti i cibi alla stessa stregua. Infatti, i cibi naturali noi li pensiamo e li elaboriamo dal punto di vista sensoriale, delle sensazioni che ci danno. Mentre i cibi trasformati invece li pensiamo rispetto alle funzioni che svolgono. Questo perché è importante. Se ci pensate un attimo nel momento in cui vogliamo educare o vogliamo comunicare rispetto a dei cibi, è importante sapere che tipo di informazioni sono preponderanti. Per cui nel momento in cui cercheremo di fare una comunicazione su un cibo naturale, forse non lo sappiamo per certo, comunque forse sarà più efficace utilizzare delle tecniche e delle informazioni molto legate al sensoriale, che è la cosa preponderante che usa il cervello in quei casi. Però noi siamo interessati a capire varie situazioni, siamo interessati a capire come il cervello elabora le informazioni dei cibi naturali e trasformati, come il cervello li tratta differentemente, ma anche come li tratta in maniera simile. Un altro esperimento che abbiamo svolto, di cui vi vorrei raccontare un attimo i risultati, cerca di capire se il cervello tratta i due tipi di cibi, naturali e processati, allo stesso modo anche se non dovrebbe in certi casi. Pensate un attimo a un'arancia, questa è un'arancia acerba, questa è un'arancia matura, probabilmente per tutti i presenti questa qui è molto più attraente. Questa cosa qui, questa distinzione tra acerba e maturo, è possibile perché siamo in grado di cogliere certi aspetti visivi di un'arancia durante la maturazione. In particolare siamo in grado di cogliere la distinzione tra il verde e il rosso, questo è perché abbiamo una visione, un apparato visivo che si è sviluppato esattamente per cogliere questa distinzione. Quando eravamo ancora ai primordi dell'evoluzione, l'essere in grado di vedere un frutto maturo su un albero era molto importante per poter ottenere il nutrimento, per poter mangiare il più possibile. Questa distinzione è ancora molto importante nei primati non umani, però se pensate quando andiamo al supermercato probabilmente non troveremo delle arance acerbe, per cui diventa meno interessante, meno fondamentale per noi questa capacità di distinguere tra il verde e il rosso. Quello che ci siamo chiesti è se questa struttura, questa capacità del nostro sistema visivo di fare una distinzione così fine tra il verde e le varie gradazioni di verde e rosso è ancora in atto e ancora guida le nostre scelte anche se non è più necessario. Per cui abbiamo chiesto a dei partecipanti di dirci quanto trovavano imbogliante e attraente un'immagine. Abbiamo chiesto però oltre 250 tipi diversi di cibo e questi dovevano semplicemente dirci quanto attraente era. Abbiamo misurato quanto rosso e verde c'era nell'immagine per vedere se la quantità di rosso e di verde determina ancora tutt'oggi il nostro giudizio di attrattività, il nostro giudizio di quanto vorremmo un certo cibo. Qui vediamo le diverse quantità di colore e qui quanto i partecipanti hanno detto che gli piaceva e l'attraeva un certo cibo. Come vedete col crescere del verde l'attrattività per quel cibo diminuisce. Inversamente invece col crescere del rosso stiamo parlando di immagini in cui c'è una certa quantità di rosso e di verde ma col crescere del rosso l'attrattività di un cibo cresce. Il che vuol dire che noi utilizziamo ancora questa strategia che è molto efficace per quanto riguarda la frutta e la verdura di cercare quei frutti per esempio che sono più maturi. Però lo utilizziamo anche nel caso in cui ci siano diversi tipi di frutti. Questi sono due tipi diversi di mele e il fatto che sia verde e rossa non ha niente a che fare con la maturazione. Però noi utilizziamo ancora questa strategia in un certo senso quasi anche se è inutile in questo caso. Però qui la mela di biancaneve forse è stata scelta rossa per qualche motivo perché noi ancora la consideriamo molto molto attraente. La domanda però pertinente a questo punto è funziona solo per i cibi naturali o funziona anche per i cibi processati? Pensate un attimo a una pasta al pesto dovrebbe essere solo perché è verde dovrebbe essere meno attraente di una pasta al pomodoro perché è rossa. In realtà è proprio così. Anche i cibi processati li troviamo più attraenti quando hanno più rosso. E che vuol dire che in realtà anche se questa strategia può essere efficace, può essere utile quando si tratta di scegliere il frutto e la verdura più mature, in realtà viene utilizzata, diventa quasi un bias nella scelta anche per i cibi processati. E questi sono i membri del gruppo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.